Soccorritori, soldati e poliziotti cercano senza sosta di ritrovare superstiti del terribile terremoto nel sud del Messico che secondo l'ultimo bilancio aggiornato, ma non certo definitivo, ha provocato almeno 61 morti e oltre 200 feriti. Si è trattato del più violento sisma a colpire il paese nell'ultimo secolo con una magnitudo di 8.2 sulla scala Richter. L'epicentro è stato individuato circa 100 chilometri a largo della località di Tonala, sulla costa dello stato del Chiapas. E proprio la profondità dell'epicentro, che si trova in una zona rurale, ha limitato il numero delle vittime. Ma è lo stato meridionale di Owaka che è stato il più colpito da questa scossa. Molte vittime potrebbero essere intrappolate sotto gli edifici crollati. Siamo molto spaventate. La verità è che siamo spaventati, molto spaventati. Certo, l'importante è che siamo vivi, racconta questa donna. Ovunque si vedono devastazione e morte, automobili sepolte sotto le macerie di muri crollati, vetri rotti, tronchi di albero sono disseminati su tutte le strade. Questa zona, circondata da montagne, ricoperta da vegetazione tropicale, ha cambiato volto.